L'ingegnere Federico Cattana di NASCA si occupa di facility management. Cosa combinate? NASCA cosa fa? Allora noi siamo un'azienda di facility management quindi cerchiamo di supportare i nostri clienti per tutti quelli che sono i servizi che noi chiamiamo no core, quindi che non fanno parte delle attività del core business dell'azienda e quindi noi facciamo principalmente nei loro spazi attività di manutenzione, pulizie, servizi vari come possono essere l'attività di facchinaggio, di gestione del verde se presente e un po' tutte quelle attività che sono utili per migliorare gli spazi. Certo, e state lavorando bene? Sì, allora... Il mercato risponde? Sì, è un mercato che sta rispondendo bene, noi stiamo lavorando molto in tutta Italia, infatti abbiamo appena aperto una nuova sede in Sicilia, che è a Catania, un bel posto per fare le vacanze. Sì, esatto, lo avete fatto apposta anche lì. Esatto, e nel mercato delle teglie, essendo qui a questo bellissimo evento, seguiamo proprio tutta Italia per tutte quelle che sono le attività manutentive, quindi attività agli impianti elettrici, di condizionamento e anche antincendio. Sì, ecco, siete in Italia ma anche all'estero. Sì, esatto, la nostra core business è in Italia, però seguiamo anche il mercato in Romania, Ungheria, Slovenia e tra poco approderemo pure in Grecia. Come mai la scelta di questi paesi? Ma allora, abbiamo seguito un nostro cliente che ha deciso di sbarcare in nuovi stati e siccome si trovava bene con il nostro modello di governance e di management dei propri siti, ci ha chiesto di seguirlo e siccome è un buon cliente l'abbiamo seguito, mettiamola così. Ok, allora come fanno a conoscere NASCA? Come si fa a far conoscere? Ma allora, questo è un evento che è molto utile per noi perché sono presenti molti player del mercato, sia in ambito di costruzioni ma anche poi i clienti finali delle catene di retail, quindi noi ci troviamo bene con catene che sono in tutto il territorio italiano perché abbiamo proprio una struttura che asseconda queste loro esigenze. Noi cerchiamo sempre di fare le nostre attività con dipendenti e nostri colleghi e quindi diciamo che si trovano bene con noi per questo. Benissimo, un'opinione rispetto a questo evento RBM? Noi non è il primo anno che partecipiamo, abbiamo già partecipato alle due precedenti edizioni, è un evento che è sempre in forte crescita. Vediamo che anche a livello di opportunità è sempre un contesto molto favorevole, è organizzato bene e noi come partner siamo molto contenti di essere qui. Si, con dei buoni contatti, con dei buoni contatti, bene, ottimo. Che è un po' lo scopo di questi eventi. Esatto, è la mission, va bene, grazie allora, grazie mille, grazie, grazie mille.